Il successo di un matrimonio si basa su quanto i tuoi ospiti si sono divertiti. Il nemico numero uno che devi battere è la noia, non è il mangiare bene. Mangiare bene oggi è scontato ed è il minimo sindacabile. Non devi quindi partire dalla scelta della location, ma devi partire sapendo quali sono i primi passi che devi fare per annientare la noia. Ciao, io sono Francesco Barattucci e sono il fondatore di Matrimonio Travolgente, la prima unica agenzia musicale in Italia nel settore del matrimonio specializzata nella festa, nonché autore del primo ed unico libro in Italia specifico sulla festa di matrimonio presente e pubblicato su Amazon, Matrimonio Travolgente scopri come avere una festa spontanea. Se vuoi scoprire come annientare il nemico numero uno di un matrimonio divertente, clicca subito sul primo link in descrizione, scopri di più e ti aspetto dall'altra parte. Ciao!